ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi leggerò di nuovo il volantino della lidl con le uscite del 2 novembre 2023 in modo molto più sintetico quindi volantino digitale leggeremo direttamente dal tablet come dirò semplicemente gli articoli che saranno in vendita con una velocissima descrizione non abbandoneremo però il volantino cartaceo che continuerà a uscire ogni settimana ma questo esperimento voglio provarlo perché potrebbe essere interessante per chiunque abbia fretta voglio sapere subito cosa esce quindi cambiando inquadratura vediamo cosa uscirà il 2 novembre vi farò anche una velocissima descrizione degli articoli quindi fatemi sapere nei commenti se questo tipo di format vi piace e se continuare quindi troveremo il compressore da 24 litri incluso nella confezione si sarà il tubo per aria compressa sarà regolabile da 0 a 10 bar 2 manometri con scala in psi e in bar capacità di ispirazione 260 litri al minuto erogazione effettiva a 7 bar 102 litri al minuto un kilowatt e 8 il prezzo si abbassa da 149 a 129 euro questa invece la pistola sparapunti ad aria compressa che costerà 29 euro e 99 caricatore da 100 pezzi con indicazione del livello di carica dei punti ancora rimanenti all'interno del serbatoio massima pressione esercizio 8 bar inclusa nella confezione mille graffe e mille chiodi questa invece alla smerigliatrice mandrino oscillante anche questa si abbassa di ben 50 euro quindi da 199 149 euro con rotazione orizzontale e oscillazione verticale tavolo di lavoro inclinabile a piacere fino a 45 gradi cinque bussole smeriglianti sostituibili incluse potenza allacciata 500 watt numero di giro a vuoto 2000 al minuto velocità del nastro 8 metri al secondo sollevamento di oscillazione 16 mm faro led ricaricabile da lavoro 19 euro e 99 con funzione power back usb quattro modalità di funzionamento quindi massima luminosità luminosità eco al 50 per cento segnale di oss e lampeggio di colore rosso luminosità 6500 k 2000 lumen 20 watt in dotazione cavo usb tipo c adattatore per auto 12 volt più alimentatore dotato anche di impugnatura che funge da sostegno per regolare l'inclinazione questa è una levigatrice a penna multifunzione ricaricabile che a differenza delle altre anche un pannellino con dei tastini fisici per poter regolare la velocità adatta perforare e fresare levigare lucidare pulire tagliare e incidere numero di giri quindi regolabile tramite i tastini che vi ho fatto vedere poco fa in dotazione troveremo 44 inserti 5 mandrini 1 premontato chiave per la sostituzione degli inserti cavo di ricarica usb di tipo c costo 19 euro e 99 accessori adatti per la stessa penna levigatrice al cui 176 pezzi anche questi perforare fresare lucidare incidere pulire levigare oppure tagliare adatte per legno plastica e metallo la confezione si apre in più scompartimenti con nascosti diversi accessori il posto 14 euro e 99 più in basso troviamo ancora accessori per la levigatrice a penna ma sono delle confezioni singole con all'interno 10 18 35 63 78 oppure 140 pezzi saranno praticamente questi che vediamo in queste immagini tutti compatibili con la levigatrice a penna come sono compatibili con la levigatrice a penna queste micro punta di trapano adatte per poter lavorare sui circuiti stampati plastica pure vetro aclirico le dimensioni varie non base alla confezione quindi da 0 3 a 1 e 2 1 e 1 2 mm 2,1 3 mm contraddistinti dalle colorazioni prezzo 4 euro e 99 a confezione questo è il nuovo trapano a colonna con numero di giri profondità di perforazione e piano di foratura regolabili monitor digitale che indica anche il numero di giri illuminazione integrate e laser a croce 500 watt di potenza numero di giri a vuoto regolabile da 450 a 2600 al minuto angolo di inclinazione del piano di foratura dal meno 45 più 45 gradi questa volta dotato anche di mandrino auto serrante e a questo prezzo di 199 euro perché la qualità di questo trapano a colonna è superiore rispetto a quello che abbiamo visto finora che era più per livello obbistico questa invece una stazione di saldatura con vaschetta con spugna integrata temperatura regolabile da 200 a 450 gradi 48 watt in dotazione troveremo tre punte del saldatore una premontata due rocchetti di stagno 10 grammi e una spugna per saldatura il costo è 19 euro e 99 sarà presente anche un set di taglierini a 3 ore e 49 comprende 33 pezzi ma fate attenzione perché nel 33 pezzi sono incluse anche le lame di ricambio questi invece sono gli utensili per meccanica di precisione 35 o 37 pezzi custodia inclusa e saranno composti da una piccola pinza più un piccolo cacciavite con degli inserti e nell'altro set invece ci saranno una piccola ventosa per poter smutare display lente di ingrandimento pinzette e anche in questo caso dei piccoli inserti poi c'è una novità quindi un set di pinza crimpatrice questa serve per poter crimpare diversamente da quello che vi ho fatto vedere recentemente quindi già recensita eventualmente se vi interessa recensirò anche questa avrà una regolazione manuale della pressione a confusione di cricchetto maniglie bloccabili e all'interno troveremo ben 2012 pezzi al corso di 19 euro e 99 questo è un supporto per trapano anche questo già recensito permette di praticare dei fori perpendicolari le superfici ma ci permette anche di regolare l'inclinazione fino a 60 gradi costo 17 euro e 99 questa è una lampada led frontale a costo di 2 euro e 99 scontata del 25 per cento perché costava 3 euro e 99 a una fascia elastica per la testa regolabile una modalità di illuminazione del 100 per cento oppure del 30 per cento oppure con funzione di lampeggio flusso luminoso alla massima potenza 125 lumen invece con la modalità eco quindi 30 per cento avremo 37 lumen batterie incluse nella confezione sconto ottenibile tramite l'applicazione lidl plus questa invece una piccola torcia led porta chiavi che lumina fino a 60 metri di stanza con batterie incluse disponibile in diverse colorazioni costo 5 euro e 99 si sarà anche un nastro adesivo otterrato nella lunghezza di 50 metri per 50 mm di larghezza resistente agli agenti atmosferici strappabile a mano prezzo 2 euro e 99 e 3 euro e 99 anche questo con lidl plus giacca in palle da un uomo 14 euro e 99 in due colorazioni saranno presenti anche di jeans da uomo e calze da lavoro i jeans costeranno 14 euro e 99 le calze da lavoro per uomo 4 euro e 99 e allora ragazzi il video è finito qua vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace e quaggiù cliccando sul pollice nell'inizio cliccate sulla campanella dopo essere vestiti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto